18 anni fa l'alluvione di Sarno che causò complessivamente 158 vittime, la colata di fango che si staccò dal pizzo al vano provocò distruzione e morte nei comuni del versante dell'agro sarnese nocerino di quello irpino di 15. A Sarno si registrano 137 vittime, 11 a 15, 5 a Siano, 4 a Bracigliano ed una anche in provincia di Caserta, San Felice a Cancello. Ieri, giorno della ricorrenza di quella tragedia che sconvolse il paese, oltre a ricordare le vittime con celebrazioni religiose, è stato anche un momento di riflessione su quanto è stato realizzato per mettere in sicurezza l'intero territorio. La prima fase degli interventi con la realizzazione di vasche e canali è stata portata a termine, ha detto Antonio Milone, presidente dell'associazione Rinascere di Sarno, mentre resta ancora da mettere in sicurezza con i dovuti interventi il pizzo al vano. In questi giorni c'è grossa attenzione affinché il governo corregga nella legge di stabilità una norma che è lei di diritti del giusto processo per gli eredi delle vittime dell'alluvione del 98. Noi, dice Milone, assieme alle istituzioni ci siamo adoperati affinché la norma subisse una correzione, ma siamo ancora in attesa. Si spera, conclude Milone, che venga fatta entro il mese di giugno nel decreto enti locali. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il disegno di legge sulle misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario. La legge, su iniziativa del presidente De Luca e dell'assessore al bilancio, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione in ambito regionale del diritto allo studio universitario attraverso un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di consentire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la regione riesce ad adeguare le borse di studio a circa il 50% degli aventi diritto, mentre con questa legge si punta a soddisfare tutte le richieste. Per riuscirci si punta ad una riduzione dei costi. Vengono ridotti da 7 a 2 le ADISUC, le aziende regionali, per il diritto allo studio universitario della Campania, rispettivamente con sede legale e amministrativa Napoli e Salerno, che si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie. Rinnovato il protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Salerno e il comando regionale Campania della Guardia di Finanza a firmare il protocollo alla caserma Zanzur, il magnifico rettore del campus Aurelio Tommasetti, e il comandante regionale della Campania della Guardia di Finanza e il generale di divisione Fabrizio Carrarini. La convenzione prevede la prosecuzione per il prossimo triennio di specifiche procedure di controllo individuali a campione da parte della Guardia di Finanza per scoprire eventuali falsità nelle autocertificazioni presentate dagli studenti iscritti all'Ateneo per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia. Questa università ha voluto fortissimamente questo accordo, questo rinnovo di questo accordo con il comando regionale della Guardia di Finanza con uno scopo ben preciso, quello di fare in modo che tutte le autodichiarazioni rese da parte degli studenti potessero essere verificate, perché questo è un problema nazionale, esistono troppe dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale che non corrispondono alla realtà. Noi come università abbiamo fatto una scelta di campo, quella di essere da parte degli studenti, l'abbiamo fatto anche nella politica delle tasse, perché l'anno scorso abbiamo abbassato le tasse per le fasce deboli e abbiamo messo un premio per quelli che regolano gli esami, prevedendone il rimborso integrale in caso di superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi. Però bisogna essere chiari, non si può consentire di barare rispetto a quelli che sono i dati, perché questo significa non solo danneggiare l'università, ma danneggiare altri che potenziali frutturi di eventuali borse di studio. In questo senso, questa intesa istituzionale per noi è motivo di gran soddisfazione. Bilancio positivo in termini di visitatori per Villaruffolo di Ravello nel primo quadrimestre dell'anno. Sono stati già 48.435 gli ingressi che rispetto allo stesso periodo del 2015 fanno registrare un incremento del 41,64%. A marzo le presenze e gli incassi si sono attestati addirittura su un più 122%. Questi dati, se paragonati con quelli resi noti nei giorni scorsi dallo studio presentato in occasione di Imprearte, convegno promosso da giovani imprenditori di Confindustria Campania e Ance, infatti pone la regione con un incremento del 3% tra le regioni dove il comparto del turismo registra tassi di crescita più elevati a fronte del dato nazionale. I numeri che stiamo registrando a Villaruffolo vanno oltre ogni nostra più rosa aspettativa, soprattutto se pensiamo che fanno riferimento a periodi di bassa e bassissima stagione, ha detto il direttore secondo Amalfitano. Questi dati, sommati alle lusinghiere recensioni, ai risultati dei social e dei media in genere, all'apprezzamento degli ospiti, ripagano l'immensa mole di lavoro realizzate in questi anni dalla gestione della Fondazione Ravello. Siamo sicuri che con il varo di tutta la progettualità prodotta dalla direzione di Villaruffolo i numeri saranno ancora più strabilianti e con essi l'intera Ravello e la costiera amalfitana ne trarranno giovamento.